Musica Wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi anche oggi terminiamo la serie di video Dedicati alle sfide della settimana numero 5 Sempre in collaborazione con i nostri amici ragazzi di Fortnite Italy Andate nel loro gruppo Telegram per tutte le novità su Fortnite le più interessanti Quella di adesso ragazzi riguarda la posizione esatta della sfida Che ci chiede di cercare tra una roccia a forma duomo Un pomodoro con una corona e un albero circondato Allora ragazzi è abbastanza facile Il pomodoro con la corona lo vediamo alla nostra sinistra E per forza il pomodoro di Tempio Tomato La roccia a forma duomo è quella lì davanti ragazzi Leggermente più avanti lo sappiamo tutti la roccia quella gigante E l'albero circondato ragazzi non può altro che essere Ovviamente quello su cui mi sto bottando Che è qua alla mia destra Se guardiamo ragazzi formano un triangolo le tre location E io credo anzi ne sono abbastanza certo Che la stella segreta ragazzi si trovi esattamente in questo punto Dove sto atterrando in mezzo a queste tre rocce La posizione è quella ecco la roccia a forma duomo Ecco il pomodoro con la corona Ed ecco l'albero circondato La posizione secondo me è proprio questa ragazzi Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video Dovesse essere diversa Vi invito a vedere il commento Che pinnerò in modo che vi do la posizione esatta Un bel like Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in live Ciao Noi ci vediamo in live